Io mi limito a dire che nella ideazione del progetto, qui è presente anche Lucio Tamburso, che è stato uno dei principali ideatori dell'intervento e che poi abbiamo avuto modo di adattare, di contestualizzare al territorio, traendo ispirazione dal territorio e soprattutto provando a ridare al territorio stesso una serie di nuove sollecitazioni. Questo processo di scambio, di osmosi, fondamentalmente ha avuto modo di mettere in rilievo territori, noi siamo un'area interna d'Italia, territori fragili, fragili per condizioni fisico-geografiche, fragili anche per situazione ambientale, per processi modificativi che nel tempo si sono andati stratificando, e tuttavia, pur con i limiti precedentemente descritti, territori che possano offrire al contesto e al panorama nazionale e internazionale nuove opportunità, nuove opportunità che siano in grado di togliere il potenziale di sviluppo sostenibile, di riconoscere soprattutto le specificità, le diverse identità, la capacità di introdurre elementi di innovazione, non solo digitale, tecnologica, ma soprattutto sociale, e quindi la capacità di aprirsi ai contesti nazionali e internazionali per costruire reti, per irretire, per realizzare un momento di retimento e di gerarchie, di collaborazioni che siano più performate. Chiudo dicendo che questo progetto e soprattutto, meglio ancora, questo processo che negli anni si è portato avanti e che da qui a un mesetto andremo a chiudere e a rendicontare, ha una sua propagine sotto il profilo della continuità. Il progetto si chiude, ma le attività si esauriscono con la rendicontazione fisica e finanziaria del progetto stesso, che appunto il 30 giugno prossimo continuerà a sopravvivere, soprattutto continuerà a generare una capacità di aggregazione, di elaborazione che grazie anche ai partner privati potrà essere propagata e mantenuta per almeno un altro anno. Questo è un elemento di grande novità e soprattutto di capitalizzazione, da un lato di risultati ottenuti e dall'altro lato di sostenibilità sociale e in questo caso culturale. Quindi diciamo io ringrazio tutti voi per la partecipazione e lascio la parola. Grazie. A questo punto Lucio Tambuzzo ci introduce in Mediorespio specificamente nella seconda, diciamo, intervento che illustra gli interventi di arte urbana di Ajar Badonie. Lascio la parola a Lucio Enzo Tambuzzo di iWorld. Sì, grazie Gualtiero. Beh, in realtà oggi possiamo dire che trova compimento un lungo percorso che nel corso degli ultimi anni in realtà ci ha trovato a lavorare assieme, superare tante difficoltà, spesso di natura burocratica, devo dire, perché non è stato semplice mettere assieme tanti comuni, tante persone, tanti artisti in un percorso che comunque iniziano nel 2016. Per quanto riguarda, insomma, gli interventi di arte urbana che sono l'oggetto della conferenza di oggi per la presentazione dell'app in realtà aumentata, direi che essenzialmente abbiamo due orizzonti. Quello dell'arte fisica, che è essenzialmente rappresentato da opere di strict art, è quello di arte digitale, di cui poi ci parlerà Gualtiero Roberto e Andrea Carraro più nello specifico, fruibili con l'app in realtà aumentata. Per la selezione degli artisti abbiamo fatto un concorso internazionale che è stato divulgato davvero dappertutto. Abbiamo avuto la partecipazione di oltre 120 artisti dagli Stati Uniti, dal Sud America, da tutta Europa, eccetera. La direzione artistica che ho curato per questo progetto ha dato un tema, un tema su cui noi lavoriamo da tanti anni, che è il patrimonio culturale immateriale, che dobbiamo intendere come la più alta forma delle identità delle comunità. Abbiamo messo a disposizione un ampio repertorio di immagini, di testi, di video a disposizione degli artisti. E devo dire che il grande successo iniziale di questo progetto è stato proprio nel vedere come tutti questi artisti, tutti e 120 e passa quanti erano che hanno partecipato alla Call for Artists, hanno fatto un grande sforzo, sono entrati nell'anima delle Madonie e l'hanno rielaborata, riproposta e ripresentata con opere d'arte contemporanee che parlavano i linguaggi più diversi, dall'iperrealismo al naif. Di questi artisti ne abbiamo scelti 39, che hanno creato 45 murales in 17 comuni in 20 giorni. Capite quindi anche la difficoltà, anche a livello organizzativo, logistico, che abbiamo dovuto affrontare per la creazione di questi lavori. Io adesso, se mi consentite di condividere lo schermo, vi farei vedere velocemente una carrellata dei lavori che abbiamo realizzato con la street art, esatto, grazie Gualtiero. Quindi vediamo un attimo che cosa è successo con le opere di street art. Cominciamo con questo lavoro di Michael Albano, un lavoro dedicato a Cerere, quindi la dea della fertilità rappresentata quindi in questo palazzo a Bonpietro, fondamentalmente ben inserita, perfettamente inserita nel paesaggio fino a diventarne anche parte integrante. Cerere è chiaramente divinità che ha una sua presenza fortissima in Sicilia, nel centro della Sicilia. Un altro elemento, dal grano all'acqua, è stato interpretato da Alba Mocca, un artista spagnolo che a Pedradia Soprana, la sede della miniera di sale, ha proposto questo elemento fluido dell'acqua ricordandoci che la miniera di sale e quindi le madoni erano prima interamente sommersi dall'acqua, ma è anche un messaggio, se vogliamo, di sostenibilità dell'ambiente, di rispetto dei mari e dei fiumi. Il tema dell'acqua è ripreso da Atez anche ad Alimena. Atez ci ha riproposto altri due lavori in cui essenzialmente qui le arance cadono a terra, diventano bambini, che vengono accompagnati alla maturità dell'insegnante, uno stesso messaggio che viene riproposto in una scuola sempre lo stesso artista da Alimena. Qui Riccardo Buonafede, a Polizzi generosa, celebra i volti dei grandi uomini che hanno trovato, hanno qui le loro radici, le loro origini, tra cui Antonio Borgese, un critico letterario tra i più autorevoli del primo novecento che ha addirittura immaginato una Costituzione mondiale per una Repubblica mondiale che poteva essere un messaggio di pace e armonia, un messaggio chiaramente utopistico, ma perché non forse futuristico. Un omaggio reso da Riccardo Buonafede a Vincent Schiavelli, che da Hollywood si trasferisce nel suo paese natale, Polizzi generosa, nel cuore delle Madonie, dove vive gli ultimi giorni della sua vita. Un altro ritratto viene fatto dalla berlinese Kassel, dedicato a Nino Dio, a Pederlia Soprana, uno dei grandi personaggi del ballo della Cordella, che è iscritto nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana. Ma anche qui, la francese Copicomafille, dedica un'opera che viene dedicata al convento delle suore Benedettine di clausura a Geraci Siculo, un'opera immersiva creata da Allegra Corbo nel cuore di Pollina, che riprende le iconografie delle chiese di Pollina, con la caratteristica specifica che i puttini sono dei bambini down, come era down il bambino della committente delle opere delle chiese di Pedradia. Un lavoro importante è stato anche fatto da diversi artisti per celebrare il coraggio delle donne del paesaggio madonita. In questo caso, Crazy One vuole rendere omaggio a Concetta Mezzasalma e al suo grande lavoro che ha fatto a tutela dei deboli con questo movimento della mano, che ci ricorda un pensiero che vuole forse volare in alto per diffondersi il più possibile. Vigno Bento, sudamericano, cerebra qui un personaggio famoso, che è un po' lo sciamano della manna. Appollina, quindi la raccolta della manna, una tecnica tradizionale, e anche questa è scritta nel registro delle eredità immateriali. Un altro elemento ricorrente, chiaramente, dell'iconografia siciliana, che è il fico d'India, che viene rappresentato da NCS 18 con questo murale a Gratteri, che ha una doppia prospettiva, un'immagine sfocata che ci ricorda una fotografia d'epoca che nella sua parte centrale prende colore e diventa iperrealista per darci anche una profondità temporale e ricordarci che questo frutto ha una sua persistenza nell'immaginario collettivo siciliano. NCS 18 con Web 3 a Shara fanno anche un'opera dedicata alla gestualità tramandata in generazione e in generazione dedicata alla raccolta della vendegna. una celebrazione dei Santi grazie a Hermes Hart che viene proposta a Polizia Generosa, un'iconografia che viene ricomposta e scomposta da Feleon, ad Alimena, in cui vengono presentati i costumi del territorio, ma anche la chiesa del territorio. Un messaggio di speranza da Frode, c'è arriva da Valle d'Olmo, in cui la crisi agricola viene un po' smorzata da questa pecora nera che allatta un agnellino dorato in questo messaggio di possibile rinascita del territorio. Una preghiera di Giovannelli dedicata alla Madonna del Soccorso a Cattavulturo con Vedda Matri su Currini. Ma anche il Figo d'India, il viaggio del Figo d'India che viene proposto da Guerilla Spam ma che ci ricorda che nasce in Messico e che attraversa l'intero mondo trovando qui un momento di sintesi fondamentale. Un frutto, il carciofo, che è l'elemento simbolo del comune di Cerda, viene riattualizzato con un linguaggio contemporaneo dalla statunitense Jennifer Ernie che ci rivela che la bellezza può essere in tutte le cose. Mentre in questo caso la 180 Adaliminusa ci ripropone una poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia. La Lubizza a Castelbuono ci presenta e ci ricorda la santa delle mamme la mamma di tutte le mamme che è Sant'Anna come mamma è la Francesca Serio che è la mamma di Salvatore Carnevale ucciso dalla mafia nel 55 che abbraccia la sagoma quindi il suo ricordo e che ha dedicato l'intera sua vita poi nella ricerca della verità. Un messaggio che viene anche presentato da Matracas che da Londra si trasferisce a Cattavuturo e che vuole ricordare a tutti che il 20 gennaio 1893 500 contadini si sono ribellati al feudalesimo e 11 di questi vennero uccisi dall'esercito reggio ma hanno seminato comunque un segno di protesta che nel corso del tempo cambierà le sorti. Un messaggio di leggerezza invece viene in questo caso a Cerda diffuso da Mr. Tom con questa figura un po' naif che ci ricorda e sottrae al destino della dimenticanza una figura straordinaria che era quella delle bagnature il banditore strettamente legato alla targa Florio perché prima di arrivare alla targa Florio questa figura con il tamburo andava in giro per le strade di Cerda dicendo andate a casa attenzione attenzione sta arrivando la targa Florio il sindaco non si prende nessuna responsabilità un po' una liberatoria per il sindaco Nais qui ci propone un'opera ispirata alla tessitura del telaio della Zahanna Bonpietro tesoro umano vivente un tema dell'intreccio viene ripreso da Noais a Gratteri in una poetica stratta il lavoro invece di NSN 997 dedicato alla comunità di Geraci Siculo con volti reali di persone di Geraci invece questa coloratissima tavola di San Giuseppe viene proposta da Oblo Gestor Rounds all'Ascari Laura Pitingaro dedica la giostra dei Ventimiglia anch'essa a una celebrazione scritta nel Gisto delle Eità Immateriali di Sicilia a Geraci Siculo questi sono gli elementi e gli animali chiave della celebrazione con la falconeria dei Cavalli un cavallo che diventa asino che viene rappresentato da rame 13 dal contadino che a un certo punto ci vuol far riflettere sulla rimpossessarsi del proprio tempo in una società che è caratterizzata da una frenesia che ci sottrae tempo alla riflessione e quindi a noi stessi un'iconografia ancora tradizionale ripresa da Reis ad Alimena e da Irene Russo a Caltavuturo mentre Seba Matt sempre a Cerda ci propone un'altra opera dedicata alla figura del Vanni Arturi che avevo presentato poc'anzi questo straordinario lavoro di Soen Bravo Madrid che sta a lavorare assieme a un creatore di cesti ne assorbe la manualità e la ricontestualizza con quest'opera straordinaria iperrealista a Bonpietro una in tessitura che in questo caso riguarda il ricamo è il chiacchierino tanto cara ai comuni madoniti e che viene impressa nelle vie di Geraci Sicuro in questo caso da Angela Sottire Teddy Killer dedica anche in questo caso una preghiera a San Gandolfo a Polizzi generosa dedicando un lavoro sia alla religiosità del santo ma anche alla produttività della terra attraverso il gersomino che è un fiore tanto presente in Sicilia in un posto che è attraversato dalla processione di San Gandolfo e che percorre le strade di Polizzi Tilf mi avvio verso la conclusione scompone l'arte bizantina riconfigurandola nelle mure di questa scuola di infanzia con un linguaggio vicino ai bambini e Amalia Tucci che crea questa immagine in cui c'è la Madonna e anche in questo caso Sant'Anna che celebano il momento della raccolta dei frutti e infine quest'opera dedicata alla Web3 al taxi di Martin Scorsese ricordandoci che è proprio qui che Martin Scorsese ha i suoi Natali quindi immaginiamo un po' la complessità di questo lavoro in venti giorni tutte queste opere davvero una fatica direi fuori dal comune per cui ringrazio moltissimo sia Sosvima Ficile Carmelo Macaruso e tutto lo staff ma ovviamente lo staff di iWOD da Emanuele Messina Clara Mollica Claudio Cambuzzo Dere Specore e tutti gli altri assistenti locali i comuni perché dietro questa fatica ci sono stati davvero degli eroi che con la passione hanno consentito di realizzare questo percorso grazie a tutti Gualtiero ti rido la parola grazie a te Lucio a questo punto ricollego alla parola chiave FIGITAL fisico e digitale abbiamo fatto un percorso fisico con Lucio Tambuzzo che ci ha consentito di realizzare questa visione di queste opere che sono una nuova diciamo un nuovo contributo culturale inserito nel territorio ma il percorso è anche un percorso digital quindi ha questa componente che appunto adesso andiamo a presentare che è sostanzialmente una app un'app che contiene diciamo funzioni di realtà aumentate che tra l'altro consente anche al turista di effettuare un percorso nel territorio delle Madonie alla scoperta di questi murales con anche addirittura le video interviste degli artisti quindi una componente anche di approfondimento di questa produzione culturale nuova che va a arricchire il patrimonio culturale delle Madonie stesse io partirei direttamente con la condivisione di un 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 video che è un video che ci ci introduce alla all'app stessa è un trailer e vediamo adesso questa presentazione iart Madonie è una originale iniziativa ibrida fisica e digitale costituita dai murales realizzati nei comuni delle Madonie in Sicilia e da opere digitali fruibili attraverso la app la app iart Madonie conduce alla esplorazione di 18 borghi del parco delle Madonie per scoprire le opere d'arte ispirate al patrimonio culturale immateriale del territorio l'app disponibile per iOS e Android prevede 5 sezioni opere murales apparizioni mappa info la scheda di presentazione dei murales è arricchita da video interviste agli artisti noi umani siamo fatti al 70% di acqua di lavori manuali quindi un pochino magari più artigianali l'uomo il capello il cavallo lo sguardo permette di incontrare il patrimonio naturale e quello umano e il mio arrivo a Castelbuono è singolare tutte le opere sono geolocalizzate nella mappa delle Madonie creando così un nuovo percorso di turismo culturale le creazioni digitali degli artisti sono destinate alla fruizione in realtà aumentata la tecnologia AR effettua una scansione 3D dell'ambiente in cui si trova l'utente per posizionare l'opera che viene visualizzata in grandezza naturale diventa quindi possibile avvicinarsi girare intorno alla scultura aumentata apprezzare i dettagli le opere digitali sono state raccolte mediante un concorso internazionale e sono state concepite in relazione al patrimonio culturale immateriale delle Madonie il modulo apparizioni realizza una serie di installazioni d'arte contemporanea in realtà aumentata evocando con figure mitologiche tridimensionali il sistema di pratiche e saperi tradizionali delle Madonie ecco credo sia stato utile questo percorso di condivisione adesso dico due frasi prima di passare al prossimo componente del programma spero che il video sia stato efficace credo che sia anche il modo più semplice più diretto di presentare l'app io ho anche presentato delle slide però direi a questo punto che passerei alla proposta anche di fare la fase di download e hands on cioè la prova diretta a voi di questa applicazione prima poi di passare la parola a Edoardo Colombo che ci farà un po' una riflessione sul quadro generale delle tendenze anche in cui si inserisce questa iniziativa tendenze che riguardano l'evoluzione del turismo culturale sostanzialmente ecco questa app è a disposizione gratuitamente di tutti può essere scaricata può diventare anche una forma se volete di nuovo percorso turistico anche per un tour operator ad esempio una novità all'interno della offerta ricchissima della Sicilia per scoprire anche qualcosa di nuovo e di originale io a questo punto condividerei la presentazione con anche due QR code perché a questo punto diciamo che per voi che state seguendo immagino quasi tutti da PC la presentazione potete adesso attivare lo smartphone e inquadrare i due QR code che permettono di andare direttamente su App Store in questo caso per iOS vedete questo è il QR code lo lascio qualche secondo così che chiunque voglia scaricarla per iOS iPhone lo inquadri e arrivi direttamente alla pagina dell'App Store che permette di scaricarla ecco e chiaramente ci vorrà poi qualche secondo insomma per scaricarla a seconda della vostra connettività perché l'App è molto ricca di contenuti e quindi richiede anche un attimo di tempo per scaricarla adesso passerei alla visualizzazione per chi non ha iPhone ma ha Android della versione QR code per Android quindi ripeto chi di voi ha uno smartphone e vuole installare l'App può inquadrare questo QR code quella classica applicazione per QR code andare sulla pagina di Google Play che è lo store di Android e effettuare il download direttamente sul proprio dispositivo voglio ricordare che questa app essendo un'app di realtà aumentata comprende funzionalità piuttosto avanzate di 3D tracking come diceva anche il video del contesto in cui ci troviamo le opere di realtà aumentata sono a loro volta delle opere digitali voi tutti conoscete anche la tendenza oggi del metaverso dell'NFT della creazione anche di nuove opere puramente digitali certificate attraverso la tecnologia blockchain che entrano anche in un mercato d'arte nuovo quello appunto degli NFT ecco quindi siamo in un filone che in qualche modo sta crescendo molto in questi giorni a Firenze c'è anche una mostra dedicata all'arte digitale quindi diciamo che ci inseriamo in un filone e andiamo a creare quindi questo approccio digital non solo nel fatto di poter fruire in modo fisico e digitale del territorio ma direi di fruire in modo fisico e digitale anche dell'arte cioè di due forme di espressioni artistiche una più diciamo classica quella dei murales che abbiamo visto presentati da Lucio e invece un'altra più come dire sfidante più innovativa che è quella della app e della realtà aumentata nel prossimo intervento che passo a Edoardo Colombo vediamo che cosa invece ci vuole dire Edoardo nella sua diciamo punto di vista Edoardo è uno dei maggiori esperti consulenti turismo in Italia partecipa da molti anni anche a progetti di carattere ministeriale nazionale coordine dei think tank dedicati a turismo e cultura e quindi ci può dare un punto di vista un po' esterno a noi finora abbiamo parlato tutti gli operatori che sono stati coinvolti nel progetto è interessante adesso avere anche una visione di un esperto dall'esterno che può darci una chiave di lettura più diciamo imparziale e esterna grazie Edoardo se puoi prendere la parola grazie a voi per l'invito è molto un privilegio essere con voi perché siete sempre molto avanti e guardate molto oltre il presente diciamo per cui in qualche modo anticipate i trend io faccio parte anche una cosa che faccio parte della commissione di valutazione delle smart tourism le capitali europee dello smart tourism per cui sotto l'aspetto dell'accessibilità e della sostenibilità c'è una grandissima attenzione nell'industria turistica proprio a quelle che possono essere delle innovazioni delle tecnologie che possono favorire una fruizione innovativa alternativa in questo caso sicuramente è un modo intelligente interessante per coporsi come destinazioni con la componente culturale artistica che è sempre uno dei principali motivi di viaggio e di attrazione e questa ibridazione tra reale e virtuale non si può più dire contaminazione perché è un termine che ormai può essere confuso però questo permeare il territorio con l'arte con questi capolavori dei morales che sono diventano un aspetto del territorio un aspetto dell'estetica del territorio ed è un fattore attrattivo che è integrato con la tecnologia con l'innovazione con la fruibilità di queste modalità di realtà aumentata decisamente può diventare una componente che promuova che può promuovere il territorio e farlo diventare un qualcosa che diciamo devia dei flussi i flussi principali sappiamo che vanno verso le destinazioni principali chiaramente ci sono dei limiti a volte magari anche infrastrutturali di connessioni e in questo senso avere la possibilità di comunicare in questa modalità sicuramente riesce a raggiungere un pubblico che altrimenti non sarebbe facile raggiungere è un pubblico che sempre di più l'abbiamo visto durante la pandemia è anche alla ricerca di destinazioni innovative in qualche caso di prossimità però che hanno un valore anche intimo quasi animistico quasi spirituale per cui c'è una ricerca di questo di visitare i luoghi che hanno questa componente e poi parlando di trend si parla molto di questo concetto della realtà aumentata del metaverso come modalità di nuova socializzazione gli aspetti su cui Facebook e Zuckerberg insistono è il fatto della possibilità di vivere una nuova forma di socializzazione che oggi è solo scritta e fotografica sui social media e che invece con questa componente di realtà tridimensionale virtuale in cui ci si può immergere per cui in termini immersivo che penso sia stato tra i primi a utilizzare in Italia è proprio quel fatto di essere avvolti da un contenitore che ha al suo interno gli amici cosiddetti amici o comunque persone e conoscenze con cui è bello fare un'esperienza se io potessi stasera mettermi il mio oculus e connettermi con il professor Tambuzzo e visitare insieme a lui e farmi raccontare da lui tutte le opere e come ha fatto a fare le opere come sono state coinvolti i territori come sono state fatte diciamo chissà quante storie ha da raccontare sicuramente quello sarebbe un'esperienza diversa da mettermi su un computer ma riguardarle bellissime ma senza quella componente di narrazione di autenticità che lui potrebbe darmi per cui in proiezione le esperienze virtuali sono un nuovo tipo di turismo che potrebbe anche essere in termini occupazionali lo dico perché poi comunque alla fine turismo è un'industria è un'economia potrebbe essere un modo con cui aiutare anche chi rimane sui territori non farli andare via nel senso formarli essere adeguati anche utilizzare queste nuove modalità di comunicazione nuovi linguaggi ed essere pronti e essere pronti a promuoversi e rilasciare questi tipi di esperienze magari a chi poi si dice sempre è un'alternativa alla visita reale no non è un'alternativa è sicuramente un modo con cui proporsi che fa venire l'appetito fa l'anguorino nel senso io dopo aver visto Polizia Generosa o questi luoghi così ho la voglia di venirci nel senso non ho esaurito la mia tensione verso quello per cui in proiezione è sicuramente qualcosa ancora un po' sperimentale perché chiaramente i device sono ancora un po' la banda di cui si ha bisogno è un po' ancora iniziale però come sappiamo una volta avevamo dei telefonini con delle tastiere poi è arrivato lo smartphone che ci connetteva a internet e ci ha messo in un'altra specie di metaverso in cui viviamo in relazione con tutto un mondo molto più ampio grazie Edoardo su quest'ultimo punto che hai detto vorrei precisare che l'app scarica tutti i contenuti localmente quindi una persona può comodamente utilizzare il suo wifi anche in albergo oppure diciamo nella sua situazione più comoda e poi quando sul territorio non deve necessariamente avere una grossa connettività per poter fruire di questi contenuti l'unico contenuto live che chiaramente viene attivato è il routing cioè il percorso calcolato dal proprio sistema diciamo di geolocalizzazione il navigatore che ti permette di raggiungere i punti chiaramente dalla situazione in cui sei però per il resto è un'app che prevede un download di tutti i contenuti anche per appunto andare incontro alle eventuali difficoltà di roaming o di di connettività presente in tutto un territorio così ampio e disperso questa era solo una precisazione allora intanto qualcuno di voi credo avrà diciamo completato il download dell'app quindi magari poi alla fine possiamo anche come dire eventualmente commentare e condividere delle opinioni dei pareri vorrei ricordare anche che le opere di realtà aumentata sono fruibili localmente dove ci si trova cioè chi di voi oggi è a Milano o è a Palermo può vederla a Palermo ma nell'app viene indicata la posizione ottimale in cui queste opere devono apparire devono appunto comparire e quindi c'è anche una geolocalizzazione specifica a questo punto posso interromperti vedo che in un chat c'è Ilaria Viteglio che ha detto di aver installato l'applicazione lei è un'espertissima di applicazioni georeferenziate OpenStreetMap ne ha fatte di Mappina a Napoli ha fatto delle cose meravigliose su questo grazie sì so che oggi tra le persone che partecipano a questa a questa conference ci sono anche artisti che ringrazio il saluto della partecipazione ci sono esperti di realtà virtuale e aumentata e ci sono come dire ci sono diverse 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 forme di partecipazione a questo punto però io passerei la parola a Roberto Carraro e Andrea Carraro per presentare una specifica diciamo iniziativa che si chiama Apparizioni Apparizioni è un modulo dell'app ma anche un modulo del progetto ai Armadonie che sviluppa un progetto diciamo integrato tra arte contemporanea e antropologia del territorio quindi lascerei la parola a loro in modo tale che ci danno l'introduzione di questa applicazione oppure se preferite possiamo anche condividere il video diciamo facciamo come prima che ci permette di entrare immediatamente nell'argomento e poi lo commentiamo allora io vado a condividere lo schermo e mostro il video a questo punto che riguarda il modulo Apparizioni la parola Apparizioni come potete immaginare fa riferimento a una app contiene anche la parola AR Augment Reality e quindi ha un nome anche un po' specifico vediamo adesso la presentazione il progetto Apparizioni consiste in una serie di sculture virtuali che campeggiano in realtà aumentata nel paesaggio antropologico delle Madonie Apparizioni riprende le ricerche ideografiche presentate da Gualtiero e Roberto Carraro nel primo network planetario della Biennale di Venezia la ricerca Pictomatica presenta una sintassi delle figure divine costituita dalle trasformazioni visive del corpo umano alla base della raffigurazione degli dei aggiunta di attributi modifica delle dimensioni fusione tra uomini piante animali gesti simbolici ribaltamento spaziale sezione ed evidenziazione di parti anatomiche abbiamo di fronte veri e propri ideogrammi tridimensionali frutto di trasformazioni digitali del pantheon classico con questi genius loci in realtà aumentata che riprendono le antiche divinità greco-romane omnipresenti in Sicilia si raffigurano specifiche pratiche culturali delle Madonie la antica raccolta della manna è messa in scena da Apollo e Daphne trasformata in pianta da cui scaturisce la preziosa sostanza l'Atlante di Alimena regge la furrizza uno sgabello tradizionale fatto con la ferula una pianta che fingeva da bastone rituale di Dioniso una cerere aurea domina i campi di grano di San Mauro Castelverde la transumanza di cui il bevaio di Geraci era una tappa fondamentale è raffigurata da Apollo con un toro diviso tra valle e monte la tucata di lupi avviene ad inizio giugno a Gratteri con suonatori di flauto e tamburo che anticamente allontanavano i lupi un fauno con un grappolo gigantesco protegge i vigneti di Pollina si tratta di installazioni artistiche site specific figure mitologiche che dal metaverso si presentificano nel territorio ok allora riprendo velocemente penso che sia abbastanza chiaro cos'è apparizioni nel video è abbastanza autoesplicativo in sostanza è comunque un percorso che cerca di recuperare le radici dei saperi dei borghi oggi si parla molto dei borghi come una delle opportunità per l'Italia per aprire un nuovo dimensione di esperienza turistica e di recupero di territori questi territori in generale hanno dei saperi hanno delle tradizioni che vanno nel passato nella stratificazione culturale e artistica del nostro paese e qui siamo arrivati alle origini siamo arrivati nella matrice greco-romana che producendo le divinità in qualche modo ha creato una cultura che è ancora diffusa in tutto il mondo quindi riprendendo queste figure utilizzando gli schemi che le hanno create noi abbiamo fatto una ricerca parecchi anni fa su come le figure degli dei ma anche dei santi sono costituite pensate al minotauro pensate al centauro pensate a a Santa Lucia con in mano gli occhi sono meccanismi visivi potenti arcaici primitivi che producono figure questo meccanismo l'abbiamo ripreso oggi come allora usando le tecnologie digitali e abbiamo quindi prodotto queste sculture che sono sculture che sono sculture digitali a tutti gli effetti che come i genius loci antichi sono pensati in rapporto a un luogo specifico a una fonte a un campo a una montagna passerei la parola ad Andrea per vedere un attimo le implicazioni antropologiche di questo approccio artistico io visto che concludo l'intervento ho anche la responsabilità di essere un po' più breve anche perché immagino che nella mente dei presenti non ci sarà soltanto la cultura immateriale ma anche quella materiale ossia il cibo visto che ci stiamo avvicinando all'orario di pranzo comunque sia anzi parlando di materiale immateriale vorrei ricordare una cosa interessante ossia che noi siamo diciamo abituati a intendere digitale come qualcosa di immateriale quindi qualcosa che in termini antropologici verrebbe inteso come magico ossia che magicamente trasporta immagini video contenuti in realtà il digitale come ci insegnano dei moderni antropologi come Horst o Millers fa parte della cultura materiale viene studiato appunto da questi antropologi che si occupano di cultura materiale perché è composto sia da hardware materiali estremamente materiali come metallo gomma enormi infrastrutture ma è anche presente nel nostro quotidiano matericamente in modo materiale quindi la cosa interessante è che il digitale lungi dall'essere immateriale è invece la tecnologia che meglio di altre illude all'immateriale quindi illude all'astrazione questa è anche una delle ragioni per cui abbiamo deciso di adottare questo approccio con Madonie abbiamo trovato una somiglianza per non utilizzare un termine sbagliato che sarebbe analogia una somiglianza tra le visioni agresti le visioni religiose sacre e le modalità grazie alle quali il digitale riesce ad illudere la presenza l'apparizione di qualcosa quindi queste 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 forme hanno anche la volontà di diciamo essere un eco delle apparizioni agresti delle apparizioni sacre che sono fondative per molte di queste di queste appunto celebrazioni di riti e di culture immateriali il digitale quindi può diciamo trasportare meglio di altri mezzi le culture immateriali proprio perché è fatto per indurre all'illusione allo spettacolo di diciamo tradizioni e culture e elementi culturali che sono tradizionalmente indicati come immateriali una cosa interessante diciamo va a braccetto con il concetto di fisica è il fatto che qui stiamo parlando di realtà aumentate non realtà virtuale ossia una diciamo un luogo una realtà in cui un elemento digitale viene innestato all'interno di un mondo reale una realtà che noi appunto definiamo come reale questa cosa è interessante perché perché implica che chi utilizza questa applicazione deve muoversi attorno all'elemento deve muoversi attorno alla scultura per poterla vedere per poterla fruire un'altra cosa interessante e mi ricollego a Colombo questo muoversi questo camminare questo andare attorno all'opera fa sì che questa sia molto affine con il turismo sia molto affine appunto con il concetto di site specific in arte contemporanea ossia arrivare nel luogo in cui quest'opera è collocata da cui quest'opera questa apparizione emerge il concetto di presenza qui è molto importante il digitale non è qualcosa che allontana in questo caso ma qualcosa che suggerisce la presenza e quindi diciamo attira o vuole attirare le persone verso questo luogo questo è molto importante con quello che diceva prima Roberto ossia la longevità dei borghi che è una priorità essenziale del nostro paese lo è per questioni economiche per questioni sociali non possiamo nascondere che negli ultimi decenni c'è stata un'enorme emigrazione da questi luoghi che viene sorvegliata dall'antropologia ma anche da altri enti come possiamo invertire la rotta apparizioni ma tutto il progetto gli arti in madonie ci insegna secondo me una lezione interessante antropologicamente parlando ossia come possiamo dare nuova dignità alla cultura immateriale ecco la cosa interessante è che quando ci siamo approcciati a questo a questo progetto la prima cosa che abbiamo visto è come questa cultura immateriale in tutti i borghi venga spettacolarizzata venga celebrata questo è molto interessante molto importante perché apparizioni ma ripeto tutte le opere che sono circostritte in questo momento in madonie sono una nuova modalità di celebrare questa cultura immateriale dargli nuova dignità e soprattutto dare un'identità interessante a ogni borgo dare un'identità al borgo che sia compatibile con le sue radici culturali anche perché l'antropologia contemporanea ci lo ricorda appunto l'antropologia come voi saprete è lo studio delle culture nel mondo è nata come lo studio delle culture degli altri ma si è modellata lungo i secoli più di altre discipline rispetto alla evoluzione dell'umanità stessa quindi è diventata soprattutto lo studio del digitale lo studio della cultura lo studio del cibo delle tradizioni in Italia noi siamo stati tra i primi in antropologia a occuparci non degli altri ma dell'altro all'interno della nostra penisola della nostra nazione perché come tutti sanno noi abbiamo una si può definire anche biodiversità culturale d'eccezione rispetto a tutto il mondo in particolare cosa può essere interessante in questa in questa diciamo in questo stato di cose la cosa interessante è che il digitale può funzionare non soltanto come mezzo diciamo di remoteness quindi di lavoro da remoto ma può essere interessante in quanto può essere installato innestato nella realtà come presenza questa per me è molto interessante rendere materiale l'immateriale e renderlo diciamo utilizzabile per poter aumentare la longevità di questi borghi per potergli dare nuova dignità per poter rendere spettacolare la presenza del borgo nel digitale per me questo è essenzialmente importante potrebbe essere non soltanto un bel discorso che io faccio ma il futuro e le pratiche future che potranno appunto aiutare questi borghi a trovare una nuova via senza compromettere la loro identità e in questo l'antropologia è essenziale quindi si tratta di un'antropologia che progetta insieme al borgo tramite il digitale un nuovo modo di essere all'interno del contemporaneo quindi questo è un po' quello che volevo dire e vi ringrazio per l'attenzione grazie Andrea direi che a questo punto abbiamo completato il percorso previsto dal programma di questo evento direi che se lascerei la parola a chi ha partecipato all'evento al pubblico diciamo se qualcuno vuole fare delle domande chiedere chiarimenti o fare delle osservazioni benvenuto oppure anche intanto facciamo un piccolo magari giro di tavola tra chi ha preceduto questa relazione e quindi la nostra tavola rotonda magari se Lucio vuoi dire magari qualcosa a completamento di questa di questa di questa sessione oppure anche Edoardo se avete delle osservazioni intanto che magari qualcuno può formulare delle domande o dei richiesti di chiarimento ma sì mi ricollego velocemente a quello che diceva Andrea e Roberto il riposizionamento dei borghi quindi come elementi centrali per percorrere un viaggio nelle identità dei paesi italiani delle regioni italiane delle città italiane perché sono gli ultimi scrigni che ci sono rimasti gli ultimi serbatoi di verità se vogliamo quindi questo si ricollega anche a quanto sta facendo il ministero e la tutta le azioni del PNRR di rilancio dei bordi con un miliardo messo a disposizione negli ultimi sei mesi con bandi ancora in fase di valutazione che vogliono riproporre un'immagine dell'Italia vera perché è un discorso che faceva e fa anche Renzo Piano le periferie saranno la prossima sfida sono già la sfida di questo secolo perché abbiamo ormai rigenerato tutti i centri storici i centri urbani delle grandi città ma che è successo sono finite per essere delle vetrine standardizzate colonizzate dai grandi marchi il centro storico di qualunque città italiana è alla fine la sede di Prada di tutti i grandi marchi per cui è un viaggio nell'omologazione e nella standardizzazione un viaggio verso la verità l'identità la storia la profondità la verticalizzazione del tempo non può che essere fatto in luoghi verso cui deve tendere la rigenerazione urbana dei prossimi decenni a partire da adesso quindi in questo senso il digitale l'arte contemporanea la contaminazione permettetemi anche di dirlo ormai abbiamo detto prima quindi il tradimento delle forme statiche della tradizione che vanno necessariamente riattualizzate e rifatte proprie devono parlare un nuovo linguaggio che deve essere un linguaggio contemporaneo perché poi alla fine la tradizione è stata sempre tradita cioè quello che noi viviamo adesso come un oggetto statico che sia una ricetta o che sia una ceramica non è altro che una evoluzione nel tempo che ha subito sempre variazioni abbiamo necessità di capire che noi dobbiamo essere creatori di tradizione se non interpretiamo questo concetto chiave saremo vittima dei morti vittima di quelli che hanno pensato nel passato restituendoci queste forme ma che hanno necessità di essere trasformate da noi nel presente per continuare a vivere nel futuro quindi il digitale è assolutamente centrale in questo ragionamento perché è nel digitale che attraverso i janelli digitali attraverso i metaversi andremo a riconfigurare l'intero presente senza però di staccarci mai dal reale grazie Lucio molto interessante aggiungerei anche che il digitale è una risorsa che dopo queste fasi di pandemia sta rendendo possibile anche una nuova esperienza che è quella del holiday working la possibilità di trascorrere tempi lunghi non solo la solito diciamo turismo mordi e fuggi ma periodi in cui io mi trasferisco in una località anche remota e lì continuo a lavorare diciamo connesso e quindi ci sono i nomadi digitali che stanno creando nuova esperienza i borghi possono essere meta di questo nuovo nomadismo fondamentalmente anche questo è un aspetto interessante e non a caso quindi usare il digitale vuol dire anche raggiungere questo pubblico questo nuovo target che può ripopolare anche demograficamente i borghi stessi senza tranciare la relazione però con le metropoli che comunque sono le località anche le grandi aziende che danno opportunità di lavoro trasferendo nei luoghi marginali anche un target di persone di elevata cultura elevata capacità di spesa economia competenza novità quindi il rapporto tra passato e presente che poi anche al centro di questa idea di fare arte contemporanea nella tradizione è un aspetto che si collega anche a questa possibilità di oggi di rilanciare i borghi attraverso anche queste nuove modalità di turismo molto avanzate che stanno affermandosi qualcun altro vuole fare un'osservazione Edoardo magari sì sì aggiungerei che se diciamo fino a qualche anno fa il concetto del nomade digitale era un po' ristretto a delle figure molto tecnologicamente avanzate come competenza la pandemia ha diffuso la capacità di utilizzare strumenti come oggi vediamo una zoom call ormai è un qualcosa del tutto conosciuto e facile a qualsiasi livello in termini di manager o anche persone anziane di qualsiasi livello per cui e anche le aziende stanno ridefinendo in termini immobiliari i propri spazi di lavoro e potrebbero essere incentivate a dare a propri manager la possibilità di magari stare per un mese fuori fuori sede in qualsiasi luogo in qualsiasi situazione a condizione che ci sia ovviamente la connettività e in qualche modo mai non ci sia un fuso orario eccessivo perché abbiamo sempre pensato che dopo si devono lavorare ogni giorno sotto l'aspetto di questo per ogni azione anche di talento l'hai detto in qualche modo possono arrivare persone che possono essere integrate e hanno voglia di integrarsi con il contesto in cui vanno a vivere non sono persone che arrivano si mettono un computer e si chiudono in casa e lavorano e basta sono persone che possono essere utili possono essere coinvolte vanno coinvolte e su questo anche il digitale in qualche modo deve essere pensato in questa forma cioè la socialità di prossimità deve essere favorita non puoi pensare di ospitare persone in un borgo senza che queste riescano ad apprezzare le tradizioni e le vogliono vivere non le vogliono visitare in qualche modo vogliono integrarsi con il territorio per cui la tecnologia può favorirlo non dico che utilizzino Just Eat con l'osteria del borgo ma in qualche modo bisogna pensare che queste abitudini possono essere favorite per consentire di farli conoscere e integrare nel territorio ok d'accordo scusami aggiungo un'ultima cosa perché me l'hai fatta venire in mente prima è il tema anche del 2024 hanno delle radici italiane è un'iniziativa che fa parte del PNRR il PNRR Borghi è un miliardo e venti milioni e uno dice come mai i venti milioni allora il miliardo è destinato ai Borghi i venti milioni sono destinati all'anno delle radici italiane del 2024 e questa sarà una grandissima opportunità se auspicabilmente ci si muoverà c'è una riunione giovedì il ministero degli esteri cioè auspicabilmente possa diventare un fattore attrattivo anche per gli italiani del mondo che sono un pubblico che ama l'Italia che ha assunto competenze ormai magari sono di terza o quarta generazione ma che comunque possono essere facilmente accessibili grazie alle comunità diffuse degli italiani nel mondo e questo visto che parliamo di popolamento potrebbe essere una linea verso cui andare proprio perché comunque sono persone che vogliono vivere le proprie origini vogliono conoscerle e vogliono anche diffonderle ecco grazie allora direi che siamo verso la conclusione se non ci sono interventi particolari ricorderei che la documentazione relativa a quanto oggi di scritto si trova sui social di iarmadonie tra breve pubblicheremo anche i video che abbiamo pubblicato in anteprima visto in anteprima stamattina vi invitiamo a contribuire alla socializzazione di questi contenuti in rete e oggi tra l'altro è stato emesso anche il comunicato stampo ufficiale quindi chi tra di voi anche attività legate alla stampa può aiutarci a comunicare questo progetto che comunque rappresenta una punta di innovazione da vari punti di vista non solo dal punto di vista della tecnologia utilizzata la realtà aumentata in una mix reality che mischia il reale con il dimensionale ma direi anche dal punto di vista proprio culturale perché le opere che sono state illustrate da Lucio e anche questa parte sulle diciamo apparizioni costituiscono effettivamente un contributo anche culturale specifico nuovo che va evidenziato cultura e digitale insieme per la promozione del territorio grazie a tutti e buon viaggio nelle madonie quando la prima volta che capiterete non mancate di consultare di visitare queste opere di Lucio diffuso e di fruirne in modo appunto figital come abbiamo fin dall'inizio indicato grazie ancora benvenuti nel mondo fisico e virtuale del territorio della madonia a presto grazie poi Gualtiero Roberto Andrea Edoardo Alessandro Ficile non so se puoi aggiungere qualcosa a conclusione ringrazio anche io tutti voi per l'ottimo lavoro fatto e ovviamente vi aspettiamo sulle madonie per venire a costatare di persona sia la fisicità che la capacità e la qualità di accoglienza del territorio a presto